Buongiorno da Stefania Bonomi e ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Fano TV. Oggi è giovedì, giornata ancora molto torrida ma prima di parlare delle previsioni del tempo vediamo chi è il santo del giorno. Oggi si festeggia Santa Pollinare Vescovo, primo a esercitare il ministero episcopale nella città imperiale di Ravenna per diretto volere dell'apostolo Pietro di cui era il pupillo. A Pollinare l'amministra per quasi 30 anni portando avanti un'intensa opera esangelizzatrice in tutta la regione che gli vale infine il martirio. Andiamo alle previsioni del tempo. Purtroppo questo caldo torrido continua a imperversare non solo sulla nostra regione ma anche in tutta Italia, comunque il tempo è stabile. Con un clima ancora molto caldo nelle ore centrali della giornata e arriveremo di nuovo a punte massime fino a 36-38 gradi in pianura. Il mare è poco mosso, abbiamo un weekend che toccherà ancora i 36-33 gradi domenica, tendiamo un pochino a scendere sulla domenica ma lunedì e martedì abbiamo ancora delle giornate con una temperatura altissima, il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.42. E andiamo come tutti i giorni a collegarci con Ivano Biasiolo, Hospitality Director Bagni e Marino 1958 di Numana. Buongiorno Ivano. Ho il collegamento interrotto? Non sento la voce? Buongiorno a tutti. Ecco di qua, perfetto, perfetto, benissimo Ivano, non sentivo la voce. Allora Ivano, questo caldo è pazzesco, continua a imperversare, questo caronte incombe, la rassegna stampa di oggi presenta anche problemi ospedalieri importanti, ma io oggi con lei volevo parlare appunto diciamo del cambiamento climatico, anche il Corriere Adriatico oggi riporta un articolo sul cambiamento climatico. Come il cambiamento climatico ha influito anche sul turismo? Sicuramente venire al mare con questi calori è più difficile, quindi vediamo che tante persone arrivano la mattina presto e se ne vanno via prima, quindi spiniti dal fatto di stare qua magari in spiaggia per 4-5 ore di fila, perché l'unico sollievo che si può avere è quello di fare il bagno, ma non si può stare in acqua per 5 ore, quindi... Tra l'altro con un'acqua anche molto calda, perché anche l'acqua è caldissima in questi giorni. Esatto, purtroppo influisce molto sul fatto che c'è meno afflusso anche di persone, perché io immagino una famiglia che voglia andare al mare in questi giorni qua preferisce stare a casa, perché fa troppo caldo. Ma è cambiato anche proprio il flusso del turismo, ossia questo cambiamento climatico che sta facendo diventare il nostro paese un paese tropicale, ha cambiato anche la stagionalità del turismo? Questo ancora non è avvenuto, perché soprattutto dal punto di vista delle aziende, le ferie sono sempre nello stesso periodo, quindi la massa di concentrazione del turismo è ad agosto, però immagino che negli anni prossimi, visto anche questa difficoltà di affrontare certe giornate, ci sarà sicuramente un cambiamento. Per adesso non l'abbiamo ancora visto. Chiudo il nostro collegamento oggi con una domanda. Credo che siano cambiati molti tempi sul noleggio, nel senso che una volta si noleggiava un mese, poi sono diventati 15 giorni, adesso mi sembra che le persone noleggiano due o tre giorni, giusto? Gli ombrelloni, dice signora? Sì, sì, gli ombrelloni. Sicuramente c'è un cambiamento da quel punto di vista, perché il periodo di ferie si è accorciato e magari uno fa più ferie durante l'anno, quello sicuramente, però c'è ricambio, quindi ci sono più persone nuove che vengono e questo per noi è anche bello, perché conosci gente completamente diversa e accogli persone completamente diverse. Certo, c'è un turnover di gente differente. Va bene Ivano, anche per oggi abbiamo terminato, io mi devo dedicare alla rassegna stampa per i nostri telespettatori, noi ci vediamo domani mattina, sempre alle 7. Buona giornata a lei e a tutti i telespettatori di Farno TV. Grazie mille, grazie. Grazie mille. Incompiute e ritardi nelle opere. Dopodiché abbiamo le brevi di cronaca, Pesaro, emergenza caldo nel pronto soccorso, il codice calore e Fano, delle ossicandida, serve la discontinuità, parto con tre civiche. Alluvione, siamo pronti a includere le altre zone. Il commissario Figliuolo ha incontrato il governatore via al piano di interventi con 4 milioni già stanziati. Ma partiamo subito, andiamo nel vivo di quello che è appunto il discorso del caldo. Eccolo qua. Codice calore al pronto soccorso. Raffonziamo l'assistenza in casa. Questa è una cosa molto importante, perché in questi giorni di estremo caldo sono veramente tante le persone che tendono a rivolgersi ai pronti soccorsi per problemi di salute. La ST ha previsto l'apertura di ambulatori specifici, berselli pronti a riattivare anche le USCA. Emergenza caldo scattano percorsi assistenziali e potenziamenti nei pronti soccorsi. La ST ha attivato il codice calore proprio all'interno dei pronto soccorsi, dove è prevista l'apertura di ambulatori specifici per un percorso di presa in carico con terapie e controlli successivi del paziente che necessita di cure. Poi implementazione delle cure domiciliari per i pazienti seguiti dal territorio. Codice calore è un percorso assistenziale preferenziale e differenziato destinato a tutti coloro che manifestano segni e sintomi causati da malesseri e malori legate alle elevate temperature di gravità e intensità variabili che stanno colpendo molte persone in queste settimane di caldo intenso. Per cui ricordatevi che c'è proprio questa sezione del pronto soccorso dedicato al caldo. Ma spostiamoci sulle pagine della nostra città, entriamo, apriamo le porte di Fano e vediamo come titolo di testa opere strutturali al museo perplessità per il progetto. Non piace a tutti il nuovo fabbricato di raccordo tra Pinacoteca e Palazzo de Cuppis, presentato dal sindaco Massimo Serie e dall'assessore alla cultura Cora Fattori e dai tecnici naturalmente il nuovo progetto del museo civico che ha sollevato pareri contrastanti. Era una cosa prevedibile dato che una trasformazione così incisiva del Palazzo Malatestiano non veniva fatta dal 1929 quando l'architetto Cal Sabini fu incaricato di adibirne una parte a sede della Cassa di risparmio di Fano. Il primo incontro si è svolto l'altra sera alla Corte Malatestiana a cui è stata riattribuita la funzione teatrale. Un secondo si svolgerà il prossimo 31 agosto. Per l'assessore Fattori i luoghi della cultura costituiscono il segno della civiltà di un popolo. Le perplessità sono sorte di fronte alla previsione di interventi strutturali a forte impatto visivo come la realizzazione di un nuovo fabbricato di raccordo tra la loggia che dà l'accesso alla pinato e al piano superiore. Altri importanti cambiamenti riguardano l'apertura dell'arco della regina costruito nel 1655 in onore della regina Cristina di Svezia e chiuso nel 1929 al fine di migliorare l'accessibilità della corte e avvicinare il museo alla cittadinanza. Notizia di cronaca, schianto sull'Adriatica il traffico va in tilt. C'è stato un urto tra uno scooter e un'auto con un pesarese di 52 anni. Un incidente per fortuna meno grave di quanto appariva in un primo momento si è verificato ieri intorno alle 18 sulla statale Adriatica tra Fano e Fosso Seiore all'altezza del centro di Radiomagnetic. Ne ha risentito comunque tutta la circolazione. L'allarme scoppiato in seguito allo sconto tra un'auto Volkswagen con targa romena e uno scooter montato da un pesarese di 59 anni. Fortunatamente nulla di grave. Blockchain a Fano il primo workshop per dottorandi. Sono in pieno svolgimento nel complesso San Michele di Fano in via Arco di Augusto 21 i lavori del primo workshop didattico del dottorato di ricerca di interesse nazionale le blockchain che vede la partecipazione di una docina di docenti esperti del settore e di una trentina di dottorandi di diverse nazionalità. Sempre a Fano De Leo riunisce la squadra discontinuità del governo. L'ex direttore del comune si candida a sindaco appoggiato da tre liste civiche. La convocazione di una squadra proiettata verso le elezioni amministrative del prossimo anno che riguarda alcuni assessori delle due giunte a Guzzi e al tempo stesso si rivolge ad alcune figure riconducibili al centro-sinistra. La prode è una squadra di forte connotazione civica che voglia lavorare in netta discontinuità rispetto all'attuale amministrazione comunale che si propone di guidare la coalizione di centrodestra, la nostra area di riferimento. ha specificato De Leo, promotore dell'iniziativa e potenziale candidato sindaco. Sempre a Fano ecco 1100 firme, mascarina ora le primarie, raccolte in un mese il comitato dichiara in città energia e passione, appello al centro-sinistra allargato, sono state raccolte in un mese 1100 firme a favore delle primarie nel centro-sinistra fanese. Il prossimo passo, ha argomentato mascarina, sarà scrivere nell'immediatezza una lettera alle forze politiche del centro-sinistra e chiedere che si esprimano in modo chiaro sulle primarie. Ci spostiamo in Valmetauro, ma Valmetauro apre la prima pagina con basket, torneo con 50 squadre, l'omaggio a due campioni NBA, il torneo 3 o 3 di Fossombrone dedicato ai numeri 9, Tony Parker e Ryan Rondo. Ed ancora, cibo di strada a Calcinelli Track da tutta Italia, da oggi a domenica ci sarà la manifestazione incentrata sul gusto. In via alle 18 di oggi un viaggio nel cibo di strada da questa sera a domenica in Piazza Pio Franco dei Cavalieri nella frazione di Calcinelli a Colli al Metauro che diventa la capitale del gusto con track provenienti da varie parti d'Italia. un connubio tra l'entroterra e la costa con i turisti che dal mare saliranno per visitare i borghi, gustare cibo di strada, bere birra fresca e ascoltare musica. Dalla Valmetauro ci spostiamo in Valcesano e vediamo arte, qua parliamo di arte, ruralità e nuova ecologia, il focus di Traffic Festival, al Via Domani a San Lorenzo, eventi anche a Pergalo e al Castello di Loretello. Torna da domani a domenica Traffic Festival, manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Marche Arte Vive dedicata al connubio tra arti visivi, spettacoli, musica, poesia e laboratori didattici. La manifestazione estende la sua presenza nel territorio marchigiano coinvolgendo artisti nazionali e internazionali, performance, talk, workshop di arte contemporanea. Ed ancora sempre in Valcesano una notizia invece di cronaca, shock anafilattico da punture di vespe, salvato è successo al signor Ritaldo Abbondanzieri, che è successo ieri, il presidente dell'Associazione Pergola Nostra, dopo le primissime cure è stato necessario il trasporto in ambulanza presso l'ospedale di Fano, all'inizio le condizioni erano gravi, tanto che è stato ricoverato in codice rosso, ma dopo quasi un'intera giornata la situazione è tornata alla normalità e Abbondanzieri ha potuto fare il suo rientro a casa. Ci spostiamo a Senigallia, un'altra perizia psichiatrica su Padovani, la sorella della vittima, sento le sue urla. Il calciatore senigalliese in aula con una psicologa accusata di aver massacrato la ex sotto casa. Fuori dal tribunale di Bologna non è riuscita a trattenere le lacrime e la commozione. Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, la 56enne uccisa sotto casa a Bologna lo scorso 23 agosto dall'ex compagno, il calciatore modello senigalliese Giovanni Padovani. Dal giorno del delitto il 27enne è recluso in carcere e ieri per la prima volta è comparso in aula davanti alla corte d'assise bolognese per rispondere all'accusa di omicidio aggravato da stalking, premeditazione, futimi motivi e legame affettivo con la vittima. Ci spostiamo al resto del Carlino e vediamo il resto di Carlino invece come apre la sua pagina. Titolo di testa, Sofia, sedicenne, morta di tumore, la madre, lei ci ha insegnato ad essere coraggiosi. Alluvione, soldi e interventi più vicini, firmato il piano per utilizzare i 4 milioni destinati ai 7 comuni danneggiati. Figliuolo dichiara i ristori arriveranno. E poi ancora la fotonotizia, scatta l'assedio urbino, il comitato si oppone a riceci, si è fatto sentire in consiglio, no alla discarica. Ed ancora, ora l'ospedale affronta Caronte con il codice calore, fondo pagina, calcio, due acquisti per la vis, presi Loru e Zagnoni, e VL la ricetta di Buscaglia, difendere insieme e passarsi la palla. Entriamo subito a parlare della visita del generale. Figliuolo e l'alluvione, presto i 4 milioni ai 7 comuni indicati dal governo. È stato inoltrato alla protezione civile il riparto dei finanziamenti, ma non si conoscono ancora le cifre per ogni città alluvionata. Il consigliere Biancani dice che le promesse non servono. Cantiano insegna. Ritorniamo al titolo di prima pagina. Sofia morta a 16 anni per un tumore. L'addio per mia figlia sia una festa. La madre, la notizia della malattia, ha scatenato la rabbia. Poi lei mi ha detto, mamma, non lamentarti. L'addio è oggi alle 19 nel campo sportivo di Loreto. Ci saranno tutti gli amici di Sofia, gli scout e i bersaglieri di Ancona. Fano, cimitero, la denuncia della Lega. Rosciano mancano i loculi. Accusi alla Giunta, nonostante i proclami. A distanza di oltre un anno è ancora tutto fermo. Non sono ancora partiti i lavori per la costruzione della nuova ala. E i cittadini reclamano soluzioni. A distanza di oltre un anno, al cimitero di Rosciano, non sono ancora partiti i lavori per la costruzione della nuova ala. Indispensabile per dare una risposta alla carenza di locule. La Giunta sblocchi questo immobilismo e dia risposte alle tante richieste dei cittadini preoccupati per questa situazione. Ed ancora ieri c'è stato il compleanno di Aldo Luzzietti. Cent'anni di fanesitudine autentica. Il sindaco Seri nei suoi occhi. Felicità e tanta voglia di stare insieme. C'è stata una grande festa di compleanno per il fanese Aldo Luzzietti. grande come il numero che ha compiuto, ossia cento. Cent'anni a festeggiare un secolo di storia del fanese. Ieri mattina a casa sua, insieme a tutti i parenti, c'erano anche il nuovo vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone Cagli Pergola, Andrea Andreozzi, e il sindaco di Fano, Massimo Seri. Passiamo a Durbino. Pensionato, bacia una ragazza, ora rischia il processo, incidente probatorio. Ieri mattina in tribunale la procura dovrà decidere se proseguire con le indagini o archiviare il caso dopo la denuncia fatta dalla 19enne che conosceva l'uomo. È stato accusato di violenza sessuale un pensionato, 76enne di Urbino, a denunciarlo una 19enne, anche lei di Urbino, che ieri assistita dall'avvocato Pasquale Marra ha ripercorso quell'ora in casa dell'anziano e ha confermato le accuse in incidente probatorio. I due bevono un paio di bicchieri di vino, mangiano un dolce, poi lui le fa vedere anche i coniglietti appena nati. Ma tra una cosa e l'altra, a dire dalla ragazza, l'anziano la bacia sulla bocca. Ora tocca alla procura decidere se chiedere l'archivazione o chiudere le indagini. Rimaniamo sempre a Urbino e Provincia. Da domani, per i prossimi due fine settimana, abbiamo la festa della birra. Pieve di Cagna in festa per onorare la buona birra che con questo caldo andrà a fiumi, immagino. Da domani, per i prossimi due fine settimana, il borgo di Pieve di Cagna si anima per il tradizionale appuntamento con il festival della canzone dialettale e il correlato Pieve Cagni's Beer Fest. Sul palco sabato 22 si esiberanno ben sei gruppi musicali dialettali del territorio. E serata è ingresso gratuito. Domenica 23 parte del ricavato andrà in beneficenza alle zone alluvionate con la collaborazione di Ok Gastronomia. Sono moltissimi quest'anno gli eventi che è un momento questo di piena manifestazione di eventi. Siamo in pieno dell'estate quindi ce ne sarebbero veramente tanti da ricordare ma andiamo a naturalmente ricordare quelli che sono più limitrofi alle nostre zone. Per esempio, andiamo a Fano, il Vate raccontato da Guerri, d'annunzio futurista il caso è aperto, domani conferenza del giornalista e scrittore in occasione della mostra a Palazzo Bracci Pagani. D'annunzio futurista è il titolo della conferenza che si terrà domani alle 21.15 alla Pinacoteca San Domenico di Fano. Il giornalista e scrittore Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, è lui che farà la conferenza. La conferenza è uno degli eventi collaterali alla bella mostra aperta dallo scorso 30 giugno a Palazzo Bracci Pagani, dal titolo Depero e i futuristi delle Marche. Questo è un importante appuntamento culturale voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Vi segnalo un altro appuntamento con gli spettacoli, con gli eventi. Vado a ritrovare. Scusate ma purtroppo... Eccolo qua. Alle 21 questa sera nel giardino della Menuo di Fano Elena Stancanelli presenta il suo libro su Raul Gardini. Io direi che anche quest'oggi abbiamo visto tutta la rassegna stampa, non ci sono notizie particolarmente importanti se non quelle che riguardano appunto il discorso del caldo che sta veramente mettendo molte vittime di salute perché il caldo è veramente diventato insopportabile. Io naturalmente vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani mattina sempre alle 7 ricordandovi che l'informazione torna stasera alle 20.30. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.